Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. Amici e amiche di Fabbrica della comunicazione, ben ritrovati. Nuovo appuntamento domenicale con Pillole di Extramondo. Nuovo appuntamento con il Mistero. Questa sera il Mistero veramente con la M, grossa come una casa. Presento subito il graditissimo ospite di questa sera, giornalista, scrittore, traduttore, firma storica del giornale di Indro Montanelli. Lo ringrazio davvero per essere qui con noi. Rino Di Stefano, benvenuto. Grazie e buonasera a tutti. Allora, parliamo questa sera della tua ultima fatica letteraria. La mettiamo a schermo. Il caso Majorana Pellizza. Un libro di quasi 500 pagine che convoglia un'inchiesta giornalistica di 13 anni. Vediamo subito la copertina. A sinistra Ettore Majorana nella sua immagine più classica, a destra quella di Rolando Pellizza, un imprenditore bresciano che, lo vedremo questa sera, durante la sua vita ha intrecciato la vicenda umana e scientifica di Ettore Majorana. Io vorrei fare una breve introduzione ricordando a tutti chi era Ettore Majorana, perché parliamo di uno dei più grandi fisici nucleari e geni della meccanica quantistica che abbia avuto l'Italia. Enrico Fermi lo paragonava a Galileo e a Newton, giusto per dare due riferimenti. Parliamo di un fisico nato a Catania il 5 agosto del 1906 e che ha fatto molto parlare di sé perché a 31 anni è misteriosamente scomparso, precisamente il 27 marzo del 1938, mentre scendeva Napoli, proveniente da Palermo, su un traghetto. Di lui si persero le tracce. Lo ricordiamo perché faceva parte di quel gruppo di scienziati che è passato alla storia con l'appellativo dei ragazzi di via Panisperna, che era un gruppo di scienziati che lavorava la materia in maniera nuova, che applicava nuove regole alla materia e che nel 1934 è arrivato a conquistare il trono della fissione nucleare, da cui poi, ahimè, sappiamo che ci sono state delle conseguenze molto gravi, a cominciare naturalmente dalla Seconda Guerra Mondiale. Bene, quel gruppo di scienziati, capitanati come dicevo dal premio Nobel Enrico Fermi, vedeva tra le sue fila questo genio incredibile che a un certo punto decise di far perdere le tracce. Probabilmente si pensa comunemente che avesse intuito che in quelle ricerche, che in quegli studi potessero esserci delle ricadute non troppo piacevoli per il destino della umanità e dell'essere umano in generale. Infatti, purtroppo, la storia gli ha dato ragione. Si sono sosseguite svariate ipotesi su questa sparizione, ma in tempi abbastanza recenti c'è stata un'inchiesta della Procura di Roma, che è iniziata nel 2011 e si è chiusa nel 2015, secondo la quale Ettore Majorana sarebbe vissuto, intanto sarebbe sopravvissuto alla sparizione del 1938 e fra il 1955 e il 1959 avrebbe vissuto in Venezuela, facendosi chiamare Bini. Prino Di Stefano, nella tua inchiesta racconti tutt'altra storia. Spiegaci che cosa hai scoperto della sparizione di Ettore Majorana. Prima di tutto, per tornare a quella trasmissione televisiva che nasce da una segnalazione sempre di una trasmissione RAI, cioè chi l'ha visto. C'è stato un lettore che ha detto che mentre ero in Venezuela c'era un tizio che si chiamava Bini e che poi mi avrebbe rivelato che si trattava di Ettore Majorana. Dunque, nella sostanza delle cose questa certezza non c'è mai stata. Infatti, subito dopo che le tre persone, tre ragazzi, che tra l'altro ognuno di loro era vincitore di un premio giornalistico, erano stati mandati in Venezuela per un mese, subito dopo avevano fatto una trasmissione per RAI Storia, sempre sulla RAI appunto, e avevano cercato di dimostrare che appunto questa persona, questo Bini, sarebbe stato Majorana, ma in effetti non ci sono mai riusciti. Ma non è una mia opinione, il programma era presentato da un giornalista del calibro di Paolo Mieli, il quale appunto concludeva l'operazione, cioè concludeva il programma dicendo purtroppo però non ci sono mai state prove certe sulla presenza di Ettore Majorana in Venezuela e che fosse quel tale Bini. Questo è stato detto pubblicamente, anche nel libro che tra l'altro è venuto fuori, i tre ragazzi hanno scritto subito dopo, io l'ho letto interamente, non c'è scritto affatto, non c'è la dimostrazione che quel tale Bini fosse Majorana e che quindi loro avessero trovato le prove che Majorana fosse in Venezuela. Questo tanto per chiarire subito, ma non sto rivelando niente di nuovo, è stato detto pubblicamente ed è stato anche scritto. Allora, a parte questo, quello che riguarda la mia inchiesta, la mia inchiesta che è iniziata nel gennaio del 2009 e si è conclusa nel gennaio del 2022 con la morte del maggiore interessato di questa storia qui, cioè di Rolando Pelizza, in questa inchiesta io ho avuto modo di accertare che in effetti, in effetti, il racconto che faceva Rolando Pelizza risulterebbe abbastanza veritiero, io per abbastanza veritiero che cosa intendo? Intendo dire che ci sono state delle prove successivamente negli anni, perché non le ho avute subito, le ho avute addirittura nel 2014 rispetto al 2009, quindi si può capire, un po' di tempo era passato. Ebbene, erano saltate fuori delle fotografie e delle lettere, sono state periziate entrambi da periti forensi, le lettere sono state periziate dalla dottoressa Chantal Sala del Tribunale di Pavia, grafologa, e invece le fotografie sono state periziate dall'ingegnere Michele Vitiello dell'Istituto di Fotografia Informatica Forense di Brescia. Tra l'altro sottolineiamo che la perizia della dottoressa Chantal Sala ha avuto anche un riscontro ulteriore, perché lei ha firmato un giuramento di perizia stragiudiziale. Certo, lei ha voluto firmare quello proprio per far vedere che non c'erano dubbi circa l'esito della sua perizia, e poi comunque non è stata l'unica, perché le perizie della dottoressa Sala sono state tre. Lei quindi ha fatto tre perizie diverse, e in tutti e tre i casi è venuto fuori che le lettere erano state vergate dalla mano del signor Majorana Ettore. Quindi se noi vogliamo credere alla scienza forense, noi dobbiamo dare atto che queste lettere sarebbero state scritte dallo scienziato scomparso. Anche per quanto riguarda le foto, forse addirittura le foto parliamo di uno studio ancora più approfondito, nel senso che le foto originali di Ettore Majorana erano state fornite dal professore Erasmo Recami, che era un docente di fisica nucleare, che è mancato tra l'altro abbastanza recentemente negli anni scorsi, che era il biografo ufficiale di Ettore Majorana. Infatti aveva scritto uno splendido libro che si chiama il caso Majorana, che è il testo base per chi vuole conoscere la biografia di Ettore Majorana dal momento in cui è nato a quando è sparito. Ecco, io mostrerei allora subito a schermo queste immagini che ricordo ti sono arrivate tramite questo imprenditore bresciano che si chiama appunto Rolando Pelizza e di cui ora parleremo meglio perché sono veramente incredibili. Allora, qua c'è un po' un collage delle immagini. Le prime tre foto partendo da sinistra in alto sono foto tra virgolette ufficiali perché sono le foto comunemente condivise quando si parla di Ettore Majorana. E sono state fornite dal professor Recami. E sono state fornite dal professor Recami. Dalla quarta foto in alto fino ad arrivare all'ultima foto in basso a colori del 1996 queste foto rappresentano come giustamente dicevi te se vogliamo credere alla scienza forense non ci sono dubbi Ettore Majorana negli anni fino all'età di 90 anni 1996 è qualcosa di straordinario Assolutamente anche perché vabbè ma qui entriamo in un'altra magari ci arrivo tra due minuti certo comunque volevo dire l'analisi digitale fatta dall'ingegner Vitiello è un esame molto approfondito di 63 pagine nel quale lui spiega passo passo tutte le operazioni che ha fatto per confrontare le vecchie foto con le nuove e alla fine alla fine del suo esame lui arriva a individuare dice la persona rappresentata nelle vecchie foto e la persona che si vede nelle nuove è esattamente la stessa persona Ecco prima di arrivare a parlare delle lettere che hanno dei passaggi veramente interessanti sono lettere rivolte appunto da Majorana a Rolando Pelizza e ripartiamo dalla sparizione quindi dopo il 1938 che ne è stato di Majorana secondo le tue ricerche? Dunque allora devo dire prima di tutto vorrei fare una piccola premessa perché altrimenti sembrerebbe che io sia stato quello che per primo si è occupato della io ho fatto un'inchiesta giornalistica per accertare come sono andate effettivamente le cose soprattutto nell'arco di questi 13 anni tuttavia esisteva già una biografia di Ettore di Rolando Pelizza che era stata fatta da suo cugino Alfredo Ravelli ok perché cosa ha fatto il il Pelizza circa 44 anni fa tra 43 e 44 anni fa lui ha cominciato a dare tutti i documenti che lo riguardavano al cugino affinché li tenesse e alla fine questi documenti sono diventati dei faldoni 28 faldoni che costituiscono ancora oggi quello che è l'archivio Ravelli poi lui si è messo Rolando Pelizza si è messo d'accordo con il cugino e ha fatto scrivere una biografia infatti una biografia autorizzata ok quindi per quello che riguarda il passato io avevo già una traccia che mi era stata fornita dai documenti che lo stesso Pelizza e Ravelli mi avevano consegnato è chiaro quel concetto perché non voglio assumermi la paternità di qualcosa che non ho fatto io ho fatto un'inchiesta giornalistica e quindi sono andato avanti da quell'anno cioè da quando non si parlava affatto più di Rolando Pelizza perché nel 2009 non si parlava di Rolando Pelizza da dunque esattamente da circa trent'anni perché gli ultimi gli ultimi articoli che parlavano di Rolando Pelizza risalivano al 1984 mi pare su Repubblica e tra l'altro lo descrivevano più o meno come un truffatore certo o meglio come un presunto truffatore mettiamola così e anche perché c'erano insomma anche i titoli erano impostati in quel modo cioè non avevano fatto un'inchiesta particolare per vedere come erano andate le cose e dicevano questa storia è una cosa fantascientifica quindi è stato tutto inventato e lui sarebbe stato il protagonista di queste non voglio parlare proprio di truffa ma comunque sia di un racconto che non aveva nessuna attinenza con la realtà questo è come veniva dipinto Pelizza in quel periodo quindi quando io ho cominciato a interessarmene infatti io non conoscevo Pelizza neanche di nome e il motivo c'era perché io sono stato assente dall'Italia dal 73 al 77 perché ho studiato negli Stati Uniti in una università degli Stati Uniti in quel periodo e il periodo in cui si è parlato maggiormente di Rolando Pelizza è stato proprio il 1976 quando lui ha avuto ha sottoscritto un contratto con il governo italiano il governo allora presieduto da Giulio Andreotti proprio per controllare la potenzialità della macchina che stava presentando ok e ci arriviamo a questo e ci arriviamo a questo però la vicenda di Majorana sì come si definisce cioè dopo il 1938 che cosa qual è la strada che quel personaggio incredibile ha scelto di percorrere indagando indagando su quello che allora che in quegli anni si sapeva di Rolando Pelizza e del suo contatto perché lui ormai lo diceva apertamente che il suo maestro era stato Ettore Majorana io ho messo insieme dei punti e ho cominciato a indagare allora prima di tutto lui sosteneva Rolando Pelizza sosteneva che lui si recava in un convento lui aveva conosciuto o avrebbe conosciuto il Ettore Majorana in un convento dove lui si era recato per vendere una partita di calzature in quanto la sua azienda di famiglia era un'azienda che si occupava di questo settore per cui lui si era recato in questo convento proprio per vendere calzature lì avrebbe conosciuto un frate che gli altri frati appunto gli altri sacerdoti chiamavano il professore e da cosa nasce cosa parlando è venuto fuori che quella persona in effetti sarebbe stata proprio Ettore Majorana ora perché questo frate avrebbe preso in simpatia Rolando Pelizza per il semplice motivo che Rolando Pelizza aveva una grande attitudine verso la matematica ci sono quelle persone che insomma riescono più di altre come dire non soltanto a fare di conto ma anche a seguire il ragionamento matematico e lui era una di quelle questo frate se ne sarebbe accorto e lo avrebbe invitato in convento proprio per insegnargli qualcosa di più sulla matematica e sulla fisica che in quel periodo nessuno conosceva chiaro ecco in pratica noi stiamo parlando del 1958 quando Rolando Pelizza che nasce l'anno della sparizione di Majorana aveva 20 anni quindi questo è significativo e questi contatti sarebbero andati avanti con una certa frequenza una certa assiduità fino al 1964 durante questo periodo questo professore questo ospite del convento perché sembra che non abbia mai preso comunque i voti avrebbe insegnato Rolando Pelizza una nuova fisica una nuova matematica e qui torniamo al discorso delle lettere era il racconto che faceva Pelizza esattamente torniamo al discorso delle lettere che ora andiamo poi a no 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 ma volevo volevo precisare una cosa com'è che sono arrivato per esempio a individuare il convento questo è molto molto interessante perché Rolando Pelizza aveva l'ordine di non dire in quale convento aveva conosciuto Ettore Majorana ora sembrava dal momento che Ettore Majorana era scomparso a Napoli che lui si fosse rifugiato in un convento del sud d'Italia ok infatti anche negli anni successivi quando per esempio Sciascia si occupò del problema Majorana del caso Majorana e lui aveva fatto un piccolo libro dove praticamente ventilava l'idea che Majorana si fosse rifugiato in un convento del sud e che questo convento lui non lo diceva ma poi insomma c'erano anche le fotografie quindi c'era una fotografia di Sciascia che era insieme al rettore del convento quindi questo convento sarebbe stato l'eremo di Serra San Bruno sulla Spromonte Calabrese io però ho fatto un piccolo ragionamento come dici tu fino al 64 lui sarebbe andato a trovare questo frate tantissime volte lui mi ha parlato decine decine di volte ora io ho fatto due conti lui abita Chiari abitava per certe cose mi sembra che sia ancora vivo è mancato l'anno scorso lo ricordiamo sì ma ho una certa difficoltà perché certe volte a pensare che in effetti non ci sia più lui abitava a Chiari in provincia di Brescia da Chiari a Serra San Bruno il paesino che rimane proprio in cima alla Spromonte ci sono più di 1200 km 1200 km sono più di 12 ore di auto ininterrotte ora se uno ti dice che va a trovare qualcuno decine e decine di volte lo fa con 12 ore di auto così cioè 12 ore di auto significa ma perlomeno una ventina di ore insomma in condizioni normali perché ti devi fermare ti devi riposare devi mangiare insomma è un viaggio abbastanza stressante che non si può fare decine decine di volte ripetutamente come diceva lui per cui io ho cominciato a pensare che il convento dovesse essere molto più vicino a casa sua per fare una cosa del genere o perlomeno a portata di mano ecco mettiamola in questo modo ora tra le altre cose lui aveva messo in giro veramente mentre non era tanto stato lui quanto un suo collaboratore un fotomontaggio un grossolano fotomontaggio dove si vedevano le figure di Rolando Pelizza e di Ettore Majorana sotto il all'interno del chiostro di un convento ma era veramente un fotomontaggio davvero brutto davvero grossolano ed è stata una lettrice tra l'altro a mettermi sulla retta via quando mi ha fatto notare che questo convento poteva essere vicino poteva essere in Toscana lei ha detto aveva detto a me sembra di avere visto un posto del genere in Toscana io ho cominciato a fare delle ricerche e ho trovato esattamente il posto dove era stato organizzato questo fotomontaggio e qual era era il chiostro del convento della Certosa di Calci a Pisa io ho trovato esattamente il posto tant'è vero che nel libro ho messo la fotografia del posto e il fotomontaggio tanto per far vedere che si trattava esattamente dello stesso posto dunque io ero giunto alla conclusione che Ettore Majorana quel giorno non si fosse diretto verso il sud ma verso il nord nord ok ora in effetti poi diciamo così dopo la pubblicazione del libro c'è stato un mio collega di Milano che mi ha segnalato che mi ha detto Rino guarda che c'è un libricino locale di Pisa che nessuno conosceva va bene ed era i manoscritti segreti dunque i manoscritti segreti di Monsignor Giovanni Poggi questo è anche difficile da reperire penso assolutamente assolutamente perché ce n'erano poche copie io sono stato fortunato a trovarne una ebbene in questo in questo libro si parla appunto di manoscritti segreti che un certo Monsignor Giovanni Poggi avrebbe consegnato negli anni 50 al padre dell'autore di questo libro cioè di Giuseppe Ceccarini Giuseppe Ceccarini era un direttore di banca quindi figuriamoci non è che si occupasse però diversi anni dopo decise di dare un'occhiata a questi documenti e tra questi documenti trovò un documento che risaliva a Don Pellegrino scusate un attimo prego intanto ricordiamo un attimo quello che abbiamo detto finora Majorana scompare nel 1938 abbiamo la ricostruzione di quello che è molto plausibilmente è stato perché ne parla Sciascia a un certo punto nell'84 ne ha fatto un accenno anche Giovanni Paolo secondo cioè che Majorana appunto si fosse ritirato in un convento perché probabilmente probabilmente c'erano due aspetti che pesavano da una parte aveva fatto una scoperta che lo aveva forse sconvolto o comunque era totalmente in disaccordo con quello che invece stavano elaborando i suoi colleghi di via Panisperna dall'altra aveva forse bisogno della tranquillità per portare avanti un certo tipo di ragionamento di approfondimento su quanto aveva scoperto ed infatti è esattamente quello che andremo a vedere a breve però abbiamo questo passaggio certosa di calci e quando poi la certosa viene chiusa nel 1970 plausibilmente il passaggio all'eremo di Serra San Bruno sulla Spromonte dove probabilmente è rimasto chi lo sa fino a quando perché poi c'è tutto un discorso che se avremo tempo lo esplicheremo meglio completa il tuo ragionamento scusate perché qua bisognerebbe avere a memoria tutto quanto è una storia vastissima e complicatissima è una storia lunghissima e uno di questi documenti riguardava una ricerca che avrebbe fatto padre pellegrino Ernetti padre pellegrino Ernetti è passato alla storia come l'inventore del presunto cronovisore ok io non mi sono mai occupato di questo cronovisore cioè non ho mai studiato quella che è la come dire l'origine di questa invenzione comunque in questa in questa in questo documento si diceva che lui era gli avevano commissionato questa ricerca lui avrebbe usato il suo cronovisore e avrebbe accertato che quando Ettore Majorana si è recato è uscito è sceso dal traghetto Tirregna che lo portava da Palermo a Napoli invece di uscire dal porto di Napoli si sarebbe recato presso un altro molo e lì avrebbe preso un altro traghetto che lo avrebbe portato a Livorno a Livorno avrebbe preso una camera in una pensione e dopo qualche giorno qualcuno lo andò a prendere e lo portò alla certosa di calci ora noi non sappiamo se il cronovisore sia mai esistito noi non abbiamo la prova certa che questo cronovisore ci fosse ma mettiamo per esempio che padre Pellegrino Ernetti avesse avuto da qualcuno del Vaticano una soffiata qualcuno che gli avesse detto guarda che le cose sono andate così comunque quel documento non era mai stato reso noto fino al 2008 quando Ceccarini pubblicò il suo libro chiarissimo io a questo punto mostrerei una prima lettera che è forse la lettera più importante quella che Majorana o se vogliamo dire il presunto Ettore Majorana spedì a Rolando Pelizza siamo nel 1964 al termine di questo periodo di consultazioni fitte abbiamo mostrato prima le immagini le immagini di Majorana nel convento nel corso degli anni ora mostriamo questa lettera eccola qua questa è una lettera incredibile perché al di là del fatto che come le immagini è stata periziata e senza alcun dubbio prima parlavamo anche di un verbale di giuramento qui ci troviamo di fronte alla scrittura di Majorana Ettore per citare le parole della dottoressa Chantal io ne vorrei leggere qualche estratto proprio l'inizio è significativo perché Majorana si rivolge a Rolando e dice ti ricordi il nostro primo incontro avvenuto nel maggio del 58 ne è passato di tempo oggi si può dire terminato il periodo delle mie lezioni quindi ti promuovo in pieni voti sia in fisica sia in matematica quindi sostanzialmente qui Majorana sta dicendo ti ho insegnato qualcosa che dovrai portare con te ma facendo molta attenzione perché qualcosa di assolutamente nuovo qualcosa di incredibile qualcosa che dovrai saper gestire porto avanti e scorro le pagine perché sono sette pagine e ci sono degli spunti che ci danno poi là per arrivare poi alla questione della famosa macchina che è poi il diciamo il nodo attorno a cui ruota la tua indagine di 13 anni come ben sai la macchina quindi il cuore di questa nuova fisica di questa nuova matematica ti permetterà di realizzare le prime quattro fasi prima fase annichilimento controllato della materia seconda fase rallentamento dello spin della materia per far sì che si surriscaldi terza fase trasmutazione quarta fase traslazione della materia allora qui per capirci stiamo parlando di qualcosa di assolutamente inaudito fantascientifico straordinario ma che almeno per quanto riguarda la prima fase è esistito ne abbiamo una testimonianza storica incontrovertibile che ci riporta al 1976 che ci riporta al presidente del CNEN Comitato Nazionale Energia Nucleare Ezio Clementel parlaci di questo dunque in quel periodo Giulio Andreotti diede ordine a Loris Fortuna che era il presidente della commissione industria del senato di prendere dei contatti per verificare la potenzialità di quella macchina il Loris Fortuna si mise in contatto con il professore Ezio Clementel che era presidente del CNEN cioè del Comitato Nucleare ed era anche docente di fisica all'Università di Bologna Clementel in quel periodo era senz'altro lo scienziato più famoso d'Italia era tra l'altro anche la persona che era ufficialmente incaricata di firmare i diciamo così gli accordi scientifici che l'Italia faceva con gli altri stati quindi era veramente una persona importante il professor Clementel stabilì un protocollo di quattro prove e diede a Pelizza questo documento e lo invitò a far vedere come la macchina si comportava in queste quattro prove Pelizza non solo fece le quattro prove ma ne aggiunse anche una quinta e tutto andò esattamente come era previsto che andasse tant'è vero che il professor Clementel fece scrivendola di suo proprio pugno quindi non con una macchina per scrivere ma proprio a mano una relazione dove disse che quella macchina presentava delle potenzialità decisamente superiori a quelle conosciute in quel periodo ed è questo che praticamente diede origine a tutte le cose che avvennero subito dopo perché in effetti il governo italiano venne messo da parte dagli americani perché arrivarono gli americani esattamente le cose andarono in questo modo perché siccome avevano messo alle costole di Pelizza un colonnello dei servizi segreti il colonnello Massimo Pugliese del SID e questo signore si rivolse a Magnello Magnello era il responsabile del comparto scientifico dell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma Magnello avvertì subito il Dipartimento di Stato il Dipartimento di Stato avvisò l'allora presidente Gerald Ford perché era lui in carica e Ford inviò in Italia un suo rappresentante nella persona di Matthew Tutino e quindi da quel momento Matthew Tutino divenne il legale rappresentante degli Stati Uniti in Italia per quanto riguardava la macchina di Rolando Pelizza l'idea era che il governo degli Stati Uniti entrasse nella proprietà della società che faceva capo a Rolando Pelizza ecco torniamo un attimo alla macchina perché è molto significativo rispondo alle tue domande che è meglio perché altrimenti certo certo ma torniamo alla macchina perché quello che ha impressionato Clementelle che quindi poi ha tirato le attenzioni degli americani prima ancora del governo Andreotti e parliamoci chiaro se io metto un colonnello degli servizi segreti alle costole di qualcuno non è che lo faccio tanto per fare probabilmente perché suppongo che ci sia qualcosa di abbastanza sostanzioso da indagare ecco questa macchina come abbiamo anche letto nella lettera poc'anzi mostrata schermo annichiliva la materia cioè senza farla troppo difficile in pratica sparava un fascio di positroni cioè di elettroni a carica positiva che a contatto con la materia sostanzialmente la annullava ma quello che è significativo è che in questo annichilimento si produceva una quantità enorme di energia una quantità di energia pulita e questo chiaramente avrebbe messo K.O. tutta la filiera che ne so del petroglio del nucleare tutto quello che è il nostro mondo come lo concepiamo e lo concepiamo tutt'oggi quindi qualcosa di assolutamente ma che dico rivoluzionario di sconvolgente di più avrebbe sconvolto l'economia mondiale questo è il vero discorso avrebbe sconvolto il mondo il mondo certo avrebbe sconvolto il mondo ma se voi pensate che buona parte dell'economia gira sul discorso energia vi rendete conto immediatamente che cosa poteva significare l'adottare una macchina di questo genere ora io vorrei io ci tengo a fare una piccola precisazione noi tutte queste cose le conosciamo come dire da una dimensione storica del fatto ok perché noi abbiamo documenti abbiamo diverse prove circostanziali anche dei video se vogliamo anche se appunto il discorso video rimane molto lacunoso perché noi sappiamo che si può fare praticamente di tutto a livello di video quindi rimane ma invece i documenti sono quelli che sono e a noi i documenti provano che in quel periodo esisteva una macchina in grado almeno di quella prima fase ok quindi l'annichilimento della materia che è una cosa comunque del tutto straordinaria perché guardate che una macchina di questo genere va contro le leggi della termodinamica ok va contro le leggi che noi rispettiamo tutti i santi giorni nelle nostre cose ora per quale motivo esiste per esempio tutta una fascia di persone che dice ah ma sono tutte balle sono tutte bugie eccetera noi non abbiamo perché Pelizza non ce le ha volute lasciare o meglio le ha nascoste le ha nascoste da qualche parte io ignoro dove perché vorrei tanto saperlo c'è in giro una documentazione che sarebbe firmata dallo stesso Majorana che spiega il funzionamento fisico di quella macchina ok questi documenti ci mancano per cui in questo momento noi non possiamo parlare di una macchina reale da un punto di vista scientifico noi possiamo parlare di una macchina che in un recente passato senza dubbio esisteva senza dubbio aveva una sua dimensione scientifica ma che con il passare degli anni probabilmente anzi sicuramente per il volere di qualcuno è stata nascosta va bene affinché nessuno ne potesse venire a conoscenza pubblicamente chi dispone oggi di questa macchina perché presumo che ci sia non non lo ha mai rivelato per cui noi tutto quello che possiamo dire è che da un punto di vista storico questa macchina c'era da un punto di vista scientifico a oggi non è possibile provarne l'esistenza in tempi odierni oggi ok però abbiamo degli elementi oggettivi e se fossimo in un processo esatto però se fossimo in un processo indiziario insomma la bilancia penderebbe verso Rolando Pelizza perché abbiamo delle immagini che hanno superato le perizie forensi abbiamo delle lettere che sono state periziate e sono di Ettore Majorana abbiamo un riferimento a una tecnologia una macchina che è stata testata da Ezio Clementel e documentata come in grado di annichilire la materia signori scusate se è poco poi la storia naturalmente è andata avanti come dicevamo all'inizio ha preso poi contorni che vanno oltre la fantascienza però io vorrei mostrare un'altra lettera questa volta di molto di molto più molto più moderna rispetto a quella che abbiamo mostrato perché quella che abbiamo mostrato era una lettera del 64 questa è una lettera del 2000 pensate nel 2000 Majorana avrebbe avuto quasi 100 anni e anche questa periziata lo specifichiamo rivolta al suo biografo Erasmo Recami perché la mostro perché in un passaggio che io ho trovato molto significativo si spiega qual era lo scopo ultimo di questa tecnologia allora lo scopo ultimo di questa tecnologia era esattamente questo la macchina in oggetto oggi è in grado di rigenerare l'ozono distrutto semplicemente trasmutando l'anidride carbonica in ozono nella quantità mancante e l'eccesso in qualsiasi altro elemento da noi voluto ricordate nella lettera quella del 64 quando si parlava di trasmutazione la terza fase ma le sue possibilità sono infinite ad esempio essa è in grado di produrre calore limitato senza distruggere materia quindi senza lasciare residui di nessun genere nel passaggio immediatamente precedente dice Majorana o il presunto Majorana quando parlo del futuro del nostro mondo mi riferisco al surriscaldamento del pianeta cosa che io avevo previsto già nel 1976 quando diedi a Rolando una relazione dettagliata sul tema e sulle sue conseguenze dei primi sintomi all'inizio del 2000 all'incremento del problema a partire dal 2010 in seguito al quale è lecito aspettarsi delle vere e proprie catastrofi ambientali quindi qual era lo scopo ultimo di tutta questa tecnologia salvare il mondo almeno nelle intenzioni di Ettore Majorana sì non c'è dubbio salvare il mondo il problema è che qualcuno questo salvamento del mondo lo avrebbe pagato carissimo per cui Rolando Pelizza ha sempre avuto a che fare con degli non dico ignoti perché secondo lui erano agenti della CIA e diciamo così con un gruppo di persone definiamoli americani anche perché tutti noi sappiamo che gli Stati Uniti hanno diversi di diverse agenzie segrete di intelligence quindi è difficile convogliare tutto nel quadro CIA no ce ne sono altre che sono anche più importanti della CIA e penso alla National Security Agency per esempio e quindi ci sono delle persone che avrebbero controllato Pelizza e avrebbero fatto in modo che lui non riuscisse a ricostruire e quindi a utilizzare la macchina secondo quelli che potrebbero essere stati i suoi desideri ma non solo gli hanno anche impedito in tutti i modi di potersi eventualmente arricchire visto che la terza fase di questa macchina sarebbe stata quella della trasmutazione della materia trasmutazione significa che un elemento viene trasmutato in un altro elemento cambiando il numero degli elettroni che lo compone ecco a tal senso io farei farei proprio vedere adesso un video realizzato da Pelizza nel 1992 anche questo periziato tenete sempre a mente appunto quello che era l'obiettivo finale del presunto Majorana cioè trasmutare l'eccesso di anidride carbonica in ozono riequilibrando la situazione del pianeta però lui Pelizza nel 1992 realizza questo video che è chiaramente amatoriale dove mostra dei cubi di gomma a piuma che vengono trasmutati appunto in cubi d'oro possiamo anche chiacchierarci un po' su comunque lascio a te il convinto di descrivere quello che stiamo vedendo a schermo dunque questo esperimento è avvenuto a Villa Decan subito fuori Barcellona dove lui dove Rolando Pelizza si era rifugiato inseguito da tre mandati di cattura internazionali tutti e tre poi rientrati ma in quel periodo allora era latitante e si nascondeva lì ecco qui noi vediamo cosa è successo qui noi noi vediamo un cubo di gomma piuma che sulla base di quanto riusciamo a vedere si sarebbe trasformato in un cubo di metallo e nel caso specifico di oro ora questo questo video e io ci tengo a chiarirlo questo è Rolando Pelizza che sistema il cubo su una bilancia di quelle tipo commerciali quelli con la con la sbarra in cima no pesa questo cubo e il cubo peserebbe sulla base di quanto risulta dal bilanciere 65 kg ora facendo un piccolo calcolo perché noi sappiamo che il cubo era di 15 centimetri per lato noi riusciamo a misurare il volume di questo cubo con una piccola equazione moltiplicando praticamente il il volume per il peso specifico dell'oro un cubo di 15 centimetri di lato se fosse perfetto di 15 centimetri peserebbe 65 kg ora qui e questi sono ritagli di gomma piuma che sarebbero diventati d'oro ok quindi il peso variava di qualche grammo di qualche etto sulla base dello stesso cubo perché nessun cubo era perfetto erano ritagli ok quindi questo dimostrerebbe qua addirittura si vede la partita di cubi che lui avrebbe messo da parte erano 125 cubi pari a 7 tonnellate 250 grammi mi pare 250 chili e si vede appunto quest'operazione e sembrerebbe che le cose siano andate in questo modo ora noi non possiamo prendere un video di questo genere come prova scientifica io ci tengo a chiarirlo noi vediamo questo questo video come una curiosità una curiosità per carità molto strana sotto ogni punto di vista anche perché il filmato è stato realizzato con una cinepresa a caia nastro magnetico quindi modificare un simile un simile nastro magnetico in qualche modo non solo è estremamente difficile è quasi impossibile ma a parte quello a parte quello il filmato io l'ho fatto periziare da due esperti due due esperti in due diverse città e entrambi veramente uno è stato portato da Rolando Pelizza a Brescia e l'altro invece l'ho fatto portare io a Roma ebbene entrambe le perizie dicono che il filmato non è stato manomesso in alcun punto ok quindi ciò che si vede è quello che ha ripreso la camera ora c'è da precisare però che una ripresa per quanto possa essere sorprendente per quanto possa essere così meravigliosa da certi punti di vista perché trasformare un cubo di gomma piuma in cubo in oro mi pare veramente una cosa eccezionale non è sostenibile come prova scientifica perché una prova scientifica come sarebbe come potrebbe essere fatta c'è uno staff di tecnici controlla ogni singolo elemento che si vorrebbe trasmutare controlla gli strumenti che poi vengono utilizzati per la pesatura di questi oggetti e così via cioè ci sarebbero delle analisi che vengono fatte sia su ogni singolo componente sia su ogni singolo essere umano che partecipa a questa operazione in questo caso lo stesso Peliz ecco per cui in tempi recenti il Politecnico di Milano voleva fare esattamente questa cosa qui cioè è stato contattato da te probabilmente sei stato contattato sono stato contattato e è stato proposto a Pelizza di mostrare il funzionamento della macchina alla presenza di tecnici che potessero appurare che quanto lui sosteneva fosse vero quindi fare quell'indagine scientifica che avrebbe sostanzialmente messo la parola fine su ogni perplessità su ogni dubbio e Pelizza si mostrò molto collaborativo in tal senso ma accadde qualcosa che fece saltare tutto anche in questo caso che cosa successe allora è quello che io nel libro chiamo il progetto box progetto box io sono stato contattato da un imprenditore milanese il quale mi ha detto che il Politecnico di Milano avrebbe piacere di di vedere Rolando Pelizza e di esaminare la sua macchina a fini scientifici io ero contentissimo perché se si parla di scienza non si può fare un atto di fede come fanno molti che io ritengo persone non molto avvedute credere o non credere assolutamente no quando si parla di scienza bisogna prendere atto di quello che c'è e esaminarlo ok nel caso specifico sembrava che si volesse fare così allora io ho partecipato a tutte le sedute di questo comitato che era composto da tre docenti due del Politecnico di Milano e una del Politecnico di Torino più questo imprenditore e non vi dico le perplessità di questi docenti come è logico che sia uno di loro diceva ma qui stiamo parlando di Babbo Natale figuriamoci una macchina che mette un raggio trasmuta o addirittura annichilisce la materia qua si va contro ogni legge della termodinamica eccetera eccetera avevano perfettamente ragione perché per quello che noi sappiamo una cosa di questo genere è impossibile ok però non bisogna dimenticare che nel 1800 alla fine del 1800 le università c'erano gli ingegneri c'erano i docenti universitari c'erano ma se ci fosse stato qualcuno che avesse osato dire a un giorno l'uomo volerà nel cielo andrà fino sulla luna manderà una sonda su Marte eccetera l'avrebbero preso per matto l'avrebbero rinchiuso l'avrebbero rinchiuso sì appunto quindi noi non abbiamo una scienza statica la scienza per sua definizione è qualcosa di 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 mobile è qualcosa di complesso non è un monolite fisso ok quindi bisogna prendere in considerazione questo anche se anche se per dimostrare che una cosa non esiste o perlomeno che possa fare una cosa che possa fare un'operazione piuttosto che un'altra bisogna che ci sia un esame di carattere scientifico ok allora a che punto si è arrivati con questa indagine i tre docenti e l'imprenditore hanno voluto conoscere Rolando Pelizza io glielo ho portato lì hanno parlato con lui si erano messi d'accordo sul fare delle prove perché Pelizza si era detto disponibile allora non aveva ancora il divieto di utilizzare la macchina divieto che poi è saltato fuori nel 2018 e allora lui si era detto disponibile io ho fatto presente a questi signori che comunque esisteva un'analisi chimico-fisica di un oggetto che sarebbe stato colpito dal raggio della macchina di Pelizza un'analisi molto dettagliata fatta da un laboratorio nazionale un laboratorio di analisi nazionale in Italia e ho portato queste analisi gliele ho fatte vedere e forse non avrei dovuto non lo so il fatto è che loro hanno visto dalle analisi che io ho mostrato e che mi erano state consegnate tempo prima da un altro tecnico un tecnico di un certo valore hanno visto che sui bordi dell'oggetto colpito o che sarebbe stato colpito dalla macchina di Rolando Pelizza c'era la presenza di 12 minerali diversi ora parliamo per esempio di un laser ok di un laser al plasma eccetera cioè quei laser potentissimi che riescono tranquillamente a sciogliere l'acciaio come a certi livelli si riesce a fare ebbene il raggio di calore che scioglie il metallo in questo caso Rolando Pelizza parlava di una lastra d'acciaio di 15 centimetri quindi insomma scusate di 5 centimetri una lastra di acciaio di 5 centimetri e per fondere una cosa di quel tipo lì ci voleva una macchina che sviluppasse un calore stratosferico però se è fatto con un laser il laser brucia il metallo e non lascia altre tracce certo invece nel caso delle analisi che io ho portato ai docenti del Politecnico le ho pubblicate sul libro quindi chiunque le può vedere c'erano le tracce per esempio una delle tracce più consistenti di questi minerali era proprio la A-U oro ok il simbolo dell'oro cioè lungo questo oggetto che sarebbe stato bucato dal potente raggio della macchina di Pelizza si erano formati questi 12 minerali e uno di questi era appunto l'oro che era perfettamente riconoscibile dalle analisi fatte da quel momento il comitato si è sciolto e non c'è stato più verso di saperne nulla cioè non si sono più messi in contatto con me questo è quello che è accaduto tra l'altro ricordiamo che questa straordinaria energia proveniva da una macchina che funzionava con una batteria d'automobile cioè 40 watt di potenza 12 volt Rino stiamo andando verso la fine io vorrei ancora mostrare un'immagine un'immagine di un Majorana novantenne anche questa immagine periziata così come è stata periziata la scrittura accanto all'immagine Italia perché non è mai indicato naturalmente il luogo da dove arrivano queste lettere 5 agosto 1996 al mio antico allievo in attesa della quarta fase affettuosamente Ettore a destra un Rolando Pelizza quasi sessantenne 58 anni esatto a sinistra un Majorana novantenne qui arriviamo appunto a quella che è la quarta fase e che completa questo viaggio nell'incredibile nel mistero nello straordinario che abbiamo fatto questa sera e che come abbiamo visto con te ha veramente tanti tanti approdi nella realtà oggettiva nella realtà storica nella realtà documentata parliamo un attimo di questa immagine e parliamo anche del video che metterò subito a schermo che ci introduce quest'ultimo passaggio io quando ho visto questo video riconosco davvero che sono rimasto come si suol dire a bocca aperta siamo nell'agosto del 1996 e vediamo un Rolando Pelizza 58enne passeggiare con un Ettore Majorana 90enne e insomma la quarta fase quindi che cosa avrebbe fatto nella quarta fase questa macchina spieghiamo quello che c'è scritto nella lettera del 1964 tra l'altro dove si parla delle quattro fasi la quarta fase riguarda la traslazione della materia e così come viene descritta la traslazione della materia sarebbe che un oggetto colpito da quel raggio che ovviamente sarebbe opportunamente modulato per quella fase farebbe sparire l'oggetto stesso che viene preso di mira e l'oggetto potrebbe essere o un oggetto inanimato un oggetto qualunque oppure un essere vivente ok cosa succede secondo il racconto che veniva fatto da Rolando Pelizza l'oggetto o l'essere che viene colpito da questo raggio sparisce per un attimo veramente lui parlava che bisognava regolare i tempi comunque parlando di circa un minuto lui usava questo parametro l'oggetto tornava dopo un minuto nella dimensione attuale più nuovo rispetto a quello che era prima e se si trattava di un essere vivente un essere vivente più giovane ok ora non ci vuole niente per comprendere che qui si proprio si va nella fantascienza più totale per quello che ne sappiamo noi ok cioè noi non abbiamo la benché minima prova che una cosa di questo genere possa avvenire neanche ce la sogniamo di notte cioè è veramente sconosciuta al nostro tipo di scienza come la conosciamo noi ebbene se uno guarda quella fotografia quella di ma io metto a schermo quanti anni dimostra secondo te quel questo presunto Ettore Majorana al massimo 50 anni al massimo ma tenendomi largo ecco però la data dice 5 agosto 1996 dal momento che Ettore Majorana è nato il 5 agosto 1906 lui avrebbe dovuto avere 90 anni ma questo signore che un la si può mettere come si vuole 90 anni non ce li ha allora che cosa è successo io veramente mi riservo il giudizio perché non riesco proprio a immaginare qualcosa che possa essere diversa da quello che è il racconto di Pelizza stesso cioè la traslazione della materia ma allora vuol dire sarebbe che la traslazione della materia sarebbe avvenuta prima del 96 altro che quarta fase in attesa della quarta fase a meno che a meno che ma mi rendo conto e non vorrei essere frainteso perché qui stiamo parlando per pura ipotesi allora sembrerebbe che Ettore Majorana ammesso che sia stato lui ammesso che quel signore fosse lui anche se è stato riconosciuto come tale da una perizia forense quello il punto lo voglio specificare ebbene quel signore la quarta fase l'ha sperimentata prima per poter essere un cinquantenne nel 1996 altro che dopo però mi rendo conto che qua si fa proprio per parlare non possiamo dare una spiegazione razionale a tutto questo perché sarebbe cioè ci farebbe anche coprire di ridicolo per certe cose quindi noi prendiamo atto che abbiamo una fotografia con un signore che dimostra una cinquantina d'anni e dovrebbe aver rinnovato è un video è anche il video certo allora abbiamo fatto un viaggio incredibile questa sera io rimostro la copertina del tuo libro il caso Majorana Pellizza One Books di Torino tra l'altro è uscito di recente novembre 2022 se non sbaglio io vorrei chiusare con poche parole questo questa inchiesta giornalistica che tu hai condotto è veramente un esempio di giornalismo con la G maiuscola perché perché qua abbiamo un'indagine che divide i fatti conclamati i fatti storici quelli documentati quelli che sono comprovati che sono indiscutibili da quello che non è comprovabile discutibile ma non c'è mai stato pregiudizio da parte tua tu hai fatto un'indagine che semplicemente mette il lettore di fronte a tutto quello che c'è e lascia poi appunto al lettore la libertà di farsi un'opinione è qualcosa di incredibile è una storia gigantesca e questa sera ne abbiamo veramente così portato qua e là qualche spunto ma invito tutti a leggere questo libro tra l'altro si legge proprio in maniera scorrevole in maniera fluida è un piacere infinito perché è un libro di giornalismo vecchio stampo se posso permettermi come davvero raramente capita di trovarne oggi ti ringrazio davvero della tua testimonianza del tuo lavoro ripeto leggetevi questo libro perché vi immergerà in una storia incredibile una storia realmente accaduta una storia fatta di miracoli potremmo dire e chissà che in futuro non possa avere qualche nuovo risvolto non possa mostrare qualche nuovo volto a chi ci sarà negli anni a seguire noi per il momento l'abbiamo raccontata per quello che è stata per quello che è ed è grazie al tuo lavoro che oggi ne possiamo parlare grazie Rino Di Stefano grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito grazie a te e a chi ci ascolta fabbrica della comunicazione iscriviti al canale youtube e segui tutte le interviste sul sito anche su telegram ed in podcast su spotify cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha quanto di ciò che viene trasmesso dai media e verità e quanto mistificazione quanto nell'informazione e autentico giornalismo fabbrica della comunicazione il linguaggio dei media per scoprire la struttura e i meccanismi di radio tv e web apprendere i segreti del parlare in pubblico relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole fabbrica della comunicazione il linguaggio dei media il libro di Beatrice Silenzi disponibile in tutte le librerie store online e anche in formato ebook adesso sono